Sono iniziati i lavori per ripristinare il muretto del pubblico condotto in via dell'acqua calda a San Pietro a Vico. La prolungata incuria del tratto di strada aveva portato già un anno fa ai primi segni di cedimento, che è andato via via ampliandosi fino a provocare, lo scorso ottobre, l'apertura di una voragine. Al lavoro sul cantiere gli operai del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. L'intervento si sta rivelando particolarmente difficoltoso per la presenza di numerosi cavi di media tensione nella sede stradale, a poca distanza dal muro. All'interno del cantiere, che è stato realizzato mantenendo lo scorrimento d'acqua nel canale per preservare le specie ittiche presenti, il passaggio dei condotti Enel impedisce l'utilizzo di mezzi ingombranti, rendendo necessario operare in gran parte direttamente a mano. Ragione per cui i lavori si preannunciano più lunghi nei tempi e più onerosi.